oggi vi voglio parlare di pat riley subito mi viene alla mente il periodo d'oro dei los angeles lakers lo show time degli anni 80 meraviglioso magic johnson essi green james wordy una squadra incredibile guidata da un allenatore unico nel suo genere ovvero pat riley io ho studiato parecchio il coach pat riley perché ha avuto una carriera veramente dettata dagli episodi pensate che lui è stato un giocatore dei lakers ha vinto un titolo nel 72 e poi una volta deciso di non giocare più a basket cosa fa si dà al mondo della radio lavora per i lakers non hai in mente di fare l'allenatore capita per caso perché paul western ha bisogno di un assistente e non sapendo praticamente chi chiamare dice ma senti pat perché non viene a fare il mio assistente ecco pochi mesi dopo grazie a magic johnson pat riley passa dall'essere una commentatore a un allenatore dei los angeles lakers diciamo che magics e paul western non andavano d'accordissimo e quindi magic ha detto io lui e guarda caso hanno mandato via paul e con pat riley cambia tutto perché i lakers stravincono sono insieme ai celtics la grande speranza dell'nba che ha voglia di tornare al centro del mondo e ci riesce proprio con i lakers di pat riley boston celtics di larry bird e compagnia ma non si ferma qui pat riley perché una volta conclusa l'avventura ai lakers decide di trasferirsi in florida in miami it anche lì quasi per caso subentra in una determinata annata nel ruolo di allenatore tac vince anche il titolo ai miami it di lebron james e compagnia poi stanco fa il presidente e rivince ancora e sapete chi sceglie al suo posto quando decide di non allenare più è un certo eric spolstra che poi diventerà l'allenatore diciamo così di riferimento dei miami it ad un passo dal titolo quest'anno battuti solo dai los angeles lakers che sono stati di pat riley beh di anelli ne ha vinti tanto per tanti però secondo me può ancora fare qualcosa di buono sapete perché perché tranquillamente ha ribadito che il suo futuro è nell'nba ancora voglia di divertirsi con il gioco che quasi per caso è diventato il centro focale della sua esistenza grande pat riley grande coach